Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica fumetti, fumetti italiani, bentornati nella rubrica di Samuel Stern. Oggi sono con voi per parlare di Samuel Stern numero 47, il cavallo nero. Parliamo insieme dopo la sigla. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che stanno amando Samuel Stern e di commentare qui sotto con quello che venne parso di questo numero e di questo mio video. Come forse alcuni di voi sapranno, lo scorso numero, il numero 46 dal titolo Samael, non mi ha entusiasmato. Forse perché avevo grandi aspettative, perché il titolo era imponente, era il nome demoniaco del protagonista, con una copertina molto evocativa e mi aspettavo che venissero, non lo so, rivelate delle cose, pensavo che ci fossero, che ci fosse la conclusione, diciamo, di qualcosa. Invece c'è stato un nuovo inizio, un nuovo inizio che appunto io non ho apprezzato per, passatemi il termine molto terra-terra, in realtà non è così semplice la cosa, però c'erano molti spiegoni e non c'era molto a nasconderli, ecco, mettiamola così. E quasi temevo il proseguo, che era Il Cavallo Nero, che me lo aspettavo appunto come una seconda parte di Samael, ma come lo stesso editore, lo stesso autore, Gianmarco Fumasoli, ha detto, non è semplicemente una prima o una seconda parte, ma dal numero 46 inizierà un ciclo di ben 12 numeri, dove la continuity sarà molto grande, una continuity a cui noi magari non siamo abituati su questo tipo di fumetti, però lo siamo, per esempio, in altri. Con Calia abbiamo avuto una trama completamente orizzontale per 12 numeri, quindi perché non entrare nell'ottica anche in Samael Stern? Per noi che lo leggiamo ogni mese non è assolutamente un problema. Bisogna un attimino capire che magari alcuni numeri non ci sembreranno così tanto autoconclusivi. Forse anche per il fatto che non mi era piaciuto particolarmente il 46, non mi sono accorto di una cosa dal punto di vista estetico. Dal numero 46 sulla costina è iniziato ad apparire qualcosa, e ora nel 47 si nota di più. Mi aspetto che questi 12 numeri saranno appunto racchiusi da qualcosa sulla costina, e non vedo l'ora di vedere cosa uscirà. Samael Stern 47, il cavallo nero, come sempre la sceneggiatura è di Massimiliano Filadoro e Marco Savegnago, qui non abbiamo Gianmarco Fumasoli, mentre i disegni sono di Alberto Canale. Devo dire, parto subito dai disegni, mi piace molto il disegno pulitissimo, come sempre, di Samuel Stern, che dà quest'idea di moderno, di modernità, però ci sono alcune cose, alcuni tratti che non ho apprezzato. Mi hanno ricordato molto il tratto di Samuel Stern numero 1, e non lo sto dicendo in senso positivo, nel senso che alcune cose in background, dal punto di vista dei disegni, secondo me sono molto 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 semplificate, quindi espressioni quasi abbozzate di personaggi magari di secondo piano, e in alcune scene proprio a livello di inquadratura io non ho capito alcune cose, come per esempio a pagina 20, quando Samuel sta parlando con padre Christoph, l'ho letto due minuti fa, non me lo ricordo già più, che è molto bene, c'è Duncan che non si capisce a chi si sta avvicinando, non si capisce chi è questa figura, perché potrebbe essere Samuel, ma non avrebbe senso perché dovrebbe essere dall'altra parte. Insomma, ci sono alcune cosette che non mi hanno entusiasmato, altre cosette invece mi sono piaciute molto, ma è della storia che voglio parlare, della sceneggiatura, perché rispetto al numero scorso, in questo numero credo abbiano già risolto tutti i problemi che io avevo riscontrato nello scorso numero, con una semplice tecnica che è, ovvero mentre tu dai un grosso spiegone in quella che è la trama orizzontale, ficchi dentro una trama verticale, una trama secondaria, più che trama verticale, ecco, è una trama secondaria, che è una cosa che ho visto fare anche nelle migliori serie televisive, nei migliori telefilm, non dico tanto nelle serie televisive moderne, ma nei telefilm anni 90, anni 2000, dove appunto c'era una grossa continuita orizzontale, ma c'era magari una trama secondaria, di personaggi secondari, che teneva viva l'attenzione, e in questo caso il protagonista assoluto della trama secondaria, della seconda unità di regia, se vogliamo pensarlo come un telefilm, è Cranna, è Foster Cranna, il detective che con pochissimi numeri si è fatto già strada tra i nostri personaggi preferiti, tanto da essere soprannominato già nello scorso speciale, è uno dei quattro cavalieri, e mai nome fu più azzeccato, perché appunto lui insieme agli altri tre cavalieri rappresenteranno l'apocalisse di Samuel Stern, quindi in questo numero c'è stata appunto l'apocalisse, la piccola apocalisse di Foster Cranna, mi aspetto che le altre apocalissi saranno probabilmente centellinate negli altri dodici numeri, o che ne so, nei prossimi, non lo so, nei prossimi numeri vedremo tutte le altre apocalisse, o un numero sì, un numero no, per poi avere magari sei numeri finali con tutta l'apocalisse di Samuel Stern, questa cosa non lo so, ma sta di fatto che questa scelta di mettere una trama secondaria ha tenuto molto più viva la mia attenzione rispetto al numero scorso, che era completamente centrato sulla trama principale. La parte appunto nella comunità di questi giovani e bambini salvati appunto dalle grinfie della nuova inquisizione e che in qualche modo hanno racchiuso i poteri dei demoni ma senza esserne assoggettati, questa è una cosa molto carina su cui poi voglio dire due cose, è forse ancora la parte più debole delle due trame, ma è comunque più forte del numero scorso, proprio perché hanno dato una spiegazione anche ai poteri di questi bambini e li abbiamo visti attivamente anche nella loro versione più distruttiva per appunto difendersi dai veri cattivi che in questo caso sono appunto i nuovi inquisitori. Vediamo subito la presa di posizione di padre Duncan che non sapeva di essere seguito, vediamo anche nel numero scorso che c'è stato un GPS messo sulla macchina senza che lui lo sapesse e vediamo subito che appena lui ha l'occasione, appena padre Duncan ha l'occasione, prende la sua auto, anzi l'auto degli inquisitori se non sbaglio, e li investe per evitare una strage. Io speravo che questa cosa mettesse una volta per tutte pace tra padre Duncan e Samuel Stern e sancisse di nuovo un'amicizia e invece purtroppo, come a volte capita, quando l'amicizia è stata... come si dice... si sono fatte delle crepe in un'amicizia, purtroppo si vede tutto nero, indipendentemente da qualunque cosa una persona possa fare per rimediare. E questo è il caso di Samuel che ormai dai tempi di Abisco ormai non ha più quel rapporto di amicizia che aveva prima con padre Duncan. E in questa scelta, appunto, questa presa di posizione di padre Duncan, Samuel Stern poteva vederla in due modi, ha deciso di vederla nel modo peggiore, sancendo di fatto la fine, l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso di questa amicizia. Anche se appunto padre Duncan ha difeso alla fine anche lui i bambini del demonio, perché sono comunque bambini, Samuel Stern non ci sta più e non vuole più avere a che fare, almeno così pare, con padre Duncan. È un vero peccato, io avrei voluto rivederli molto rinforzati per l'apocalisse a venire, ma forse questo potrebbe servire a far avvenire l'apocalisse di padre Duncan. E perché no, anche quella di Samuel. Questo numero fa anche dimenticare un po' la parte di Angus, che era la parte che nel numero scorso mi ha fatto un più di tutti, non dico alzare gli occhi al cielo, comunque era davvero la cosa più surreale di tutta questa storia e spero venga spiegata con parsimonia nei prossimi numeri in modo da capire che cavolo sta succedendo. Questo numero, la totale assenza di Angus, ha un pochino giovato. Dal momento che ogni volta che c'è una nuova stagione di Samuel Stern si amplia un pochino il mondo e cambiano un pochino le cose anche per non dover sempre parlare delle stesse cose, cioè di possessioni demoniache. Dopo Abisco, quindi dopo la fine della... quella che può definirsi la prima stagione di Samuel, le possessioni sono cambiate, ci sono state delle possessioni anche a livello degli ambienti, come nel numero 25, a livello di comunità di persone, eccetera, eccetera. Lo stesso mondo, lo stesso pianeta Terra pare essere posseduto dopo Abisco. Qua pare che ci sia un altro step successivo, ovvero ci mostrano la possibilità di persone che hanno i poteri dei demoni ma senza esserne assoggettati, quindi sono a tutti gli effetti delle persone con dei superpoteri che magari chissà vedremo in futuro ma che possono tranquillamente stare dalla parte del bene. Non sono degli incarnati, come abbiamo visto in altri numeri, quindi la possibilità di unire la parte demoniaca fisicamente nella carne alla parte umana e quindi dare anche all'umano sia i poteri del demonio ma anche in un certo senso la sua indole. Qua invece c'è stata un'altra operazione che non ci hanno spiegato com'è, spero verrà spiegata e spero diventi utile in futuro in modo da cambiare ulteriormente il mondo. Mi viene da da pensare a questa cosa come come se stessimo per entrare in un'avventura ancora più grande. Un po' come all'inizio con One Piece quando prima si parlava solo di pirati c'era qualche frutto del diavolo poi si è allargata un po' come si dice la storia fino ad arrivare a a dove siamo arrivati adesso scusate io sono un lettore dell'ultima ora di One Piece e quindi non ho vissuto appieno l'esperienza però ne apprezzo questo questo vasto mondo e se si tenta di fare una cosa del genere ovviamente con i dovuti paragoni anche in Samuel Sterna quindi se si cerca di espandere questo mondo con nuove possibilità a ogni ciclo a ogni stagione penso che Samuel Sterna andrà avanti ancora per molto molto tempo oltre a questi 12 numeri intendo quindi nel numero scorso detto è l'inizio della fine ma invece pare essere semplicemente l'inizio di un nuovo ciclo e non vedo l'ora di leggerlo tutto di finirlo e di vedere cosa ci sarà oltre fatemi sapere voi cosa ne pensate fatemi sapere anche se nello scorso numero appunto non vi aveva entusiasmato nei vostri commenti siete stati molto specifici e mi pare di capire che la pensate come me su quando si cerca di tenere una trama orizzontale quando si è cercato finora di tenere una trama orizzontale fatemi sapere se anche per voi questa questa cosa della seconda trama con Cran ha un po' risolto il problema e se continuano così secondo me è fattibilissimo avere una continuity e avere comunque una storia mensile godibilissima grazie ancora per avermi seguito fino alla fine del video come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video che ovviamente sarà Dylan Dog se non dove sicuramente parliamo neanche qui vince a mani basse dal punto di vista del disegno perché stiamo parlando di Corrado Roy quindi questo mese credo che se la giochi se la vinca ancora Dylan Dog però sono felice che dal punto di vista della storia sia rimontato parecchio anche Samuel Stern noi ci vediamo al prossimo video grazie ancora arrivederci grazie a tutti